Proseguiamo questo tutorial dedicato all'animazione di dati in After Effects, dati provenienti da fonti esterne. Siamo ormai alla terza parte, questa parte è forse la più divertente perché finalmente preleveremo i dati provenienti da un file di testo e li utilizzeremo per animare la nostra infografica qui in After Effects. Dove eravamo rimasti? Questa è la composizione principale, abbiamo poi lo sfondo, abbiamo la composizione della barra rossa, la composizione della barra blu e abbiamo il nostro grafico a barre ospitato in un'altra composizione ad hoc. Manca una cosa in questo grafico, manca la scritta che indica la percentuale. Come fare? È semplice, strumento testo, scriviamo 0%, lo posizioniamo sopra alla barra di Trump, duplico, questo chiaramente lo posso nominare come TrumpData, duplico a questo livello, lo chiamiamo BidenData e il secondo livello, quello di Biden, lo spostiamo chiaramente dalle parti di Biden. Ecco qua. Questi saranno i due numeri magici che ospiteranno il valore della percentuale. Stavo pensando però che probabilmente dobbiamo rimpicciolirli un po', perché se noi chiaramente dovessimo avere un 100%, siamo un po' larghi, quindi io rimpicciolisco un pochettino il valore, eccolo qua, un 42 pixel va più che bene. Facciamo la stessa cosa dalle parti di Trump, 100%, così che quando poi andremo ad inserire i dati veri e propri non avremo problemi di spazio. Però, questo è la Biden, questo è la Trump, eccoci qua, non ha preso il valore, eccoci qua, 42%, fantastico. Ora, possiamo essere maniacali, spostare un pochettino a sinistra questo valore, poi i dettagli vedeteli voi, ora andiamo veloci. Passiamo alla parte più divertente. La parte più divertente è quella di utilizzare un file esterno per inserire i dati all'interno di After Effects. Come detto all'inizio di questo tutorial, nell'introduzione, se noi siamo in una redazione di un giornale e abbiamo dei giornalisti che stanno aggiornando i dati in tempo reale, e noi siamo dei grafici, ci farebbe tanto comodo che il giornalista che magari lavora in un'altra stanza, in un altro reparto, aggiorna un file e automaticamente la nostra composizione viene aggiornata. Come fare? Noi utilizzeremo un file di testo che chi lavora con Excel conosce bene, che sono file csv. Come crearli? Beh, in Excel c'è il modo di esportare i dati in formato csv. Per questo tutorial ci teniamo semplici. Dati e lezioni. Creiamo un file di testo vuoto chiamato dati e lezioni e con estensione csv. Ok. Apro il file appena creato, è un file di testo vuoto e iniziamo a comporlo. Come funziona un file di testo csv che ospita dei dati che utilizzeremo in After Effects? La prima riga ospita l'intestazione, vale a dire una descrizione con una parola di quello che troveremo nella colonna. Mi spiego. La prima colonna della nostra tabella avrà il nome dei candidati, quindi candidato, per esempio. La seconda colonna ospiterà la percentuale di voti, quindi per esempio percentuale. Fate caso come io non stia utilizzando spazi. Evitate, se scrivete questo file a mano, di utilizzare lo spazio. La divisione tra le varie celle di una colonna avviene con la virgola. Ok. Dicevo, questa prima riga non verrà letta da After Effects, ma è importante inserirla. La seconda riga verrà letta da After Effects e corrisponderà al primo set di dati che andremo ad inserire. Per esempio, sotto la colonna candidato inseriamo il nome Biden, virgola, perché passiamo alla seconda colonna, quella della percentuale, e inseriamo il valore. Per esempio, non so, 40%. Stessa cosa per Trump, quindi altra riga. Trump, valore 60. Oh, come vi dicevo, questa prima riga non verrà letta da After Effects, ma queste due sì. Per la precisione, questa prima riga sarà valore 0, questa seconda riga sarà valore 1. Ok? Parliamo di matrici, parliamo di arrays, come si dice in inglese. E in questi casi si comincia a contare da 0, non da 1. Questo è importante ricordarlo. Tra poco vedremo come accedere a questi dati. Per adesso salviamo e importiamo questo file appena creato dentro al nostro progetto After Effects. Eccolo qua. Voglio mostrarvi come After Effects vede questo file appena importato. Lo porto in timeline ed espando le proprietà. Vedete che la prima proprietà è una raccolta che si chiama dati. Non c'è nessun valore. Ok? Espando i dati, vedete come After Effects legga due righe e non tre come abbiamo creato noi. Allora, ve lo faccio vedere. Ecco qua. Noi abbiamo creato tre righe, ma After Effects ne vede due, perché la prima non è utilizzata per i nostri fini. Ok? Torniamo alla composizione, al livello. Abbiamo, come potete vedere, due colonne. La colonna dei candidati, chiamata candidato. E la colonna della percentuale, chiamata appunto percentuale. Quindi, riapriamo il nostro file di testo, ed ecco la colonna candidato e la colonna percentuale. Dentro a queste colonne, se andiamo ad espandere, troviamo candidato 0 e candidato 1. Ecco perché vi dicevo di partire sempre da 0. E sotto alla colonna percentuale, i due valori del candidato 0, quindi la percentuale 0, e del candidato 1, percentuale 1. Se andiamo a riaprire il nostro documento, noterete che i due dati sono esattamente questi. Quindi, noi stiamo per accedere, o meglio, in realtà stiamo già accedendo ai contenuti di questo file di testo. Ecco qua. E lo stiamo per fare utilizzando le espressioni. In realtà, già avendo importato il file dentro da After Effects, come avete visto, stiamo già accedendo a questi dati. Ma, adesso dobbiamo utilizzare questi dati per i nostri scopi. E qual è il nostro scopo? Beh, intanto è modificare il testo della percentuale con la percentuale reale proveniente dal dato. Cominciamo da Trump. Seleziono il livello che ospita la percentuale di Trump e noterò come il nodo, la proprietà testo, abbia la proprietà testo sorgente. Ed è questa la proprietà responsabile di scrivere il testo dentro al nostro livello. Come abbiamo visto nella lezione sulle espressioni, se io clicco il cronometrino tenendo premuto il tasto Alt sulla tastiera, inserisco un'espressione. Cosa vuol dire? Vuol dire che io adesso posso scrivere quello che voglio, tra virgolette, per esempio, Ciao Mondo, e quando cliccherò fuori noterò come il mio testo sia cambiato in Ciao Mondo. Perché? Perché il contenuto del testo di questo livello è controllato da questa proprietà. E questa proprietà utilizza un'espressione, in questo caso una semplice stringa, per scrivere qualcosa. E non voglio scrivere qualcosa in maniera statica. Voglio che quello che venga scritto qua sia in realtà il dato proveniente dal documento che io ho appena importato. Come fare? Cancelliamo Ciao Mondo. Utilizzando questo strumento, questa sorta di spirale, questo lazzo, trascino il mouse, cliccando quindi tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, sopra il documento di testo che ho appena importato. In questo modo After Effects scriverà la funzione per andare a leggere dentro al file. Guardate. Eccola. Questa è la funzione. Footage. Tra virgolette il nome del file che io ho importato e da cui voglio prendere i dati. Ma non basta. Perché se io cliccassi fuori adesso, non avrei i dati ancora. Io ho l'oggetto, non ho i dati. Devo ancora andare a leggere dentro a questo oggetto. Come fare? Punto. Quando inserisco un punto, vuol dire che vado a leggere dentro all'oggetto su cui sto lavorando. Sto dicendo malissimo, ma se masticate un po' di javascript probabilmente sapete già di cosa sto parlando. Come fare per leggere dentro a questo file di testo? Dopo il punto, ok, sfrutto una collezione di espressioni già caricate in After Effects per inserire la funzione che mi permette di leggere dentro al file. Dentro a Footage trovo questa composizione, che non pronuncio perché farei una figuraccia. Leggete. Data value, detta male in italiano, ma non fa niente. Clicco e questa funzione mi permette di andare a leggere dentro il file di dati. In che modo? Vi ricordate? Colonne, o meglio, colonne 1, questa è una colonna, colonna 0, questa è la colonna 1, e righe, questa è la riga che non viene letta, riga 0, riga 1. Dovrò dare due dati, quindi, alla mia funzione, dati espressi qui dentro, tra parentesi quadre. Il primo valore è la colonna, vale a dire, in quale colonna vado a leggere il dato? Colonna 0 abbiamo i nomi, colonna 1 abbiamo i dati. Quindi inserirò 1, virgola, seconda colonna. O meglio, secondo dato, abbiamo detto la colonna, quindi ci troviamo in questa posizione. Riga 0 o riga 1? Riga 1, sto lavorando con Trump. Quindi 1, 1. Clicco fuori, ecco il dato che compare. Se io invece di andare a leggere i dati nella riga 1, avessi voluto leggere i dati nella riga 0, il secondo valore, mi sembra, se non dico festerie, dovrebbe essere 0. Ed ecco che sto leggendo il valore della riga 0. Per fare una prova, volessi leggere il nome Biden? Beh, Biden è riga 0, colonna 0. Al contrario, prima le colonne, poi le righe. Quindi, colonna 0, riga 0. 0, 0, Biden. Ancora, Trump dove si trova? Colonna 0, posizione 0. No, bugia. Colonna 0, posizione 1. Quindi, colonna 0, riga 1. Trump, ok? Io però, qui abbiamo detto voglio la percentuale, quindi, colonna 1, posizione, quindi riga 1. 1, 1 è il dato che mi interessa. Oh, chiaramente io questo dato posso farlo seguire dal valore della percentuale. Come fare? Lavorando in JavaScript, so che se voglio concatenare due stringhe o due variabili, devo utilizzare il simbolo più. Quindi, spazio più e, tra virgolette, il simbolo della percentuale. Verifichiamo. Eccolo qua. Fantastico. Sto leggendo dentro al nostro documento. Copio questa espressione, questa è un'espressione vera e propria. E la incollo anche da Biden, ok? Allo stesso modo. Solo che questa volta, invece che 1, 1, sarà cosa? Ragioniamo. Colonna 1, riga 0. Quindi, colonna 1, riga 0. Clicco fuori. Eccolo qua. 40%. Wow. Se io adesso andasse a modificare questo documento, 50 e 50, salvo. E qui il valore viene aggiornato. Wow. Ok? Questa è la parte forse più interessante di tutto il corso. Potete spegnere qui e ci vediamo la prossima volta. No, non è vero. La parte bella deve ancora arrivare. Perché noi abbiamo adesso reso dinamico il testo, non la barra. E mo ci divertiamo. Facciamo un po' di spazio e iniziamo a lavorare con le due barre. Barra Biden, barra Trump. Iniziamo dalla barra Biden. Abbiamo detto, questo è il valore che io devo modificare per poter animare dinamicamente questa barra della mia grafica. Come fare? Allora, andiamo intanto a vedere dentro la barra Biden, dentro agli effetti, cosa devo andare a modificare. Qual è la proprietà dell'effetto che devo andare ad agganciare ad uno script, ad un'espressione. Comparsa lineare. Eccolo. Completamento. 0%. Clicco col tasto Alt premuto sulla tastiera e qua andrò ad inserire lo script che andrà a prelevare il dato per la mia animazione. Che in realtà è molto simile a quello che abbiamo fatto per il testo. Ok? Abbiamo detto che Biden è colonna 1, riga 0. Quindi non sarà 1, 1, ma sarà riga 0. Ora chiaramente la percentuale qui non serve. Ecco, guardate. 50% la barra è alta 50%. Perché questa espressione cosa fa? Questa espressione preleva il dato e lo stampa. E lo scrive qua. Ok? Se io invece di 50, Biden gli dessi 80, attenzione perché adesso accadrà quello che vi dicevo prima. La percentuale qua della transizione andrà all'80%. Ma occhio! Eh, non è quello che voglio, no? Perché? Questa è 80, ma la transizione partendo dall'alto verso il basso, per lui è l'80%, ma non è utile ai miei scopi. Beh, come fare? In realtà è semplice. Basta sottrarre a 100, che è il totale, il valore 80. Quindi, il totale è 100 meno 80, ecco che ho capovolto di fatto tutto, ok? Quindi, questo effettivamente è l'80%. Se io invece di 80 mettessi 20, ecco che è 20. Ho usato un piccolo stratagemma aritmetico per capovolgere il risultato, ai miei scopi, ai miei fini, ok? Oh, fantastico! Stessa cosa dobbiamo farla con la barra di Trump. Quindi, barra di Trump, anche qua effetti, completamento, incollo, solo che invece di essere 1,0 è 1,1. E anche qua avremo il dato, che in questo caso è il 50%, ma se io mettessi, che ne so, 75. Eccolo qua, 75, ok? Adesso siamo giunti all'ultima parte di questo video. Nel prossimo video faremo la stessa cosa, ma con le torte. Ovvero l'animazione. Ovvero, come faccio a premere la barra spaziatrice, partire da 0 e poi la barra sale, cresce, fino ad arrivare al valore desiderato? Cominciamo dalla scritta, ok? Che è la cosa più semplice da visualizzare. Cominciamo, come sempre, dalla scritta di Trump. Prendiamo la nostra espressione. Questa espressione non fa altro che prendere il valore dal documento di testo e stamparlo. Ricordiamoci questa funzione. La cancello. Me la segno, così che me la ricorderò. E utilizzerò un'altra funzione presente in After Effects che si chiama Time. Cosa fa questa funzione di After Effects? Se io mando in play, la funzione Time mi indicherà i secondi. Un secondo, due secondi, tre secondi, quattro secondi, eccetera, eccetera. Perché mi è utile questa cosa? Perché io, invece che Time, o meglio, invece che i secondi, posso, o meglio, invece che far modificare questo valore una volta al secondo, posso accelerare questo valore, no? Moltiplicando il risultato della funzione Time, per esempio, per 50. Cosa accade? Accade che il numero cresca in maniera molto più rapida. Quindi non dovrò aspettare troppo tempo per arrivare al valore desiderato. Notate come ci siano le virgole che creano dei problemi. E questo io non lo voglio. Voglio il dato senza la virgola. Come fare? Ancora, sfruttando JavaScript, utilizzo una funzione che si chiama MathFloor, che mi restituisce il valore di un numero senza la virgola. Vi dico subito che con After Effects è molto semplice perché iniziate a scrivere e After Effects vi compone, vi completa quello che stai scrivendo, suggerendovi quali funzioni possono fare al caso vostro. In questo caso, Math, eccolo qui, punto, floor, tra parentesi, il valore a cui voglio togliere la parte decimale. Eccolo qua. Se adesso mando in play, abbiamo un valore che cresce indefinitivamente. Io voglio che a un certo punto si fermi, però. E chi mi dica il valore che a me interessa. Come fare? Prima di dirvi come fare, faccio un passo indietro e un piccolo recap, perché magari corro troppo e molti staranno perdendo il filo. La funzione Time mi restituisce sostanzialmente il secondo in cui mi trovo in un determinato momento. Quindi Time, se mi trovo al terzo secondo, avrò 3. Al quinto secondo, avrò 5 e così via. Se io moltiplico Time per un valore, ovviamente accelererò questa corsa e quindi 5 per 50 fa 250. Ok? Questo è quello che sto facendo. Dal momento che io potrei avere dei risultati un po' complicati da gestire, tipo questo 9 periodico, utilizzo la funzione MathFloor per avere solo il primo numero, quindi 113, senza tutti questi 9. Ed ecco 113. Ok? Qui siamo arrivati. Perché mi è utile questa funzione? Perché questa funzione mi permette di avere un numero che cresce nel momento stesso in cui io premo la barra spaziatrice. Ma io non voglio che cresca all'infinito, voglio che a un certo punto si fermi. E quando è che si deve fermare? Quando raggiunge il valore che io ho indicato nel mio documento. Quindi in questo caso Trump al 75 si deve fermare. Come faccio a fare questa verifica? Bene, qui sedetevi un attimino con calma e seguitemi. E' più una roba da sviluppatori che da animatori. Ma molti animatori devono essere anche bravi sviluppatori e lavorare col codice per lavorare bene. Ma non vi preoccupate, ve lo spiego e vedrete che sarà più semplice di quanto possa sembrare. Allora, iniziamo con l'inserire il dato del documento dentro ad una variabile in maniera tale che io possa poi reciclarla. Ok? Quindi, valore Trump, questo sarà il nome della variabile. Ok? Ora, per i puristi di JavaScript bisognerebbe utilizzare la scritta var. Tengo le cose semplici, ok? Se non avete mai utilizzato JavaScript e non vi interessa, evitiamo complicazioni per il momento. Variabile, valore Trump, va, utilizziamo questa parola chiave per essere precisi. Via, uguale, il valore qual è? Ebbè, quello che abbiamo usato prima. Quindi, andiamo a pescare il valore del documento. Che cosa andiamo a prendere? Quello che abbiamo visto prima, quindi dal footage il valore. Ebbene, eccolo qua. Quale valore? Abbiamo detto che Trump è 1, 1. Ok? Quindi noi abbiamo registrato questo valore dentro ad una variabile. Ora, io devo verificare che il tempo, il timer, si fermi quando corrisponde a questa variabile. Cosa vuol dire? Vuol dire che adesso inserisco la funzione di prima, ok? Ma questa funzione deve continuare a correre fino a quando non è uguale a questa variabile. Come fare? Crea un'altra variabile e la chiamo contatore. Ed è questo il nostro contatore. Adesso dico ad After Effects. Se, if, che cosa? Contatore è minore del valore di Trump, che cosa faccio tra parentesi graffe? Il risultato, finché è minore, sarà il contatore. È chiaro? Altrimenti, else, che cosa faccio? Invece di stampare il contatore, stampo il valore di Trump. Perché vuol dire che sono arrivato. E mi fermo al valore. Vediamo se tutto funziona. Mando indietro. Play. Dang. Funziona. Ok? È chiaro quello che ho fatto? Ricapitolo. Ho recuperato il valore dal documento. di testo. E l'ho messo dentro la variabile Trump. Valore Trump. Dentro alla variabile contatore, ho inserito la funzione che mi permette, no? Di far crescere questo numerino da zero fino all'infinito. Poi ho detto ad After Effects. Se il valore di contatore è minore rispetto al valore di Trump, allora stampami il valore del contatore. Ok? Quindi 12, 20, quello che è. Appena mi accorgi che il valore di Trump è superiore al contatore, non mi stampare più il contatore. Stampami il valore di Trump. Quindi, in altre parole, fermati. Ok? Eccolo qua. Copio questa stessa funzione e la applico in maniera pressoché identica a quest'altra. A quest'altro valore. O chiaramente io voglio la percentuale. Quindi, come abbiamo fatto prima, contatore più percentuale. Stessa cosa, valore Trump più, tra virgolette, percentuale. Ok? Tutto chiaro, no? Ok. Torniamo di qua e facciamo la stessa cosa su Biden. Quindi, il testo sorgente ci incollo questa stessa identica espressione che però vado a modificare perché in questo caso non vado a prelevare il valore di Trump ma vado a prelevare il valore di Biden. Quindi, 1, 0. Ok? Non devo modificare nient'altro, credo. Mando in play e qui si ferma a 20. Entrambe le funzioni vanno a leggere il valore dal documento di testo e si fermeranno appena arriveranno al valore espresso nel nostro documento di testo. Facciamo un altro check. Utilizziamo un valore non in percentuale. Forse è un po' troppo. 120 e 90 Ok? Andiamo in play Tutto andrà avanti fino a 90 e fino a 120 e poi si fermerà. Wow! Funziona? Grande! Torniamo a valori più verosimili 45 e 55 o meglio, facciamola via 46 e 54 dai, più simile a come è andata effettivamente. Ok. Ora, se ci pensate bene la stessa cosa lo stesso principio lo applicheremo alle barre con la differenza che invece di andare a modificare un testo scritto andremo a modificare la percentuale ok? su cui si basa la comparsa lineare vi ricordate? L'avevamo agganciata prima già al valore del documento ma non c'è l'animazione per fare l'animazione dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto con i valori di sopra modificando solo ricordate il discorso del 100 cioè bisogna invertire il valore quindi dovremo sottrarre accento il valore che abbiamo scritto sul documento quindi io incollo intanto la funzione eccola qua ovviamente ovviamente adesso il valore non funziona vediamo perché così vediamo anche di capire come risolvergli i problemi no? quando qualcosa non funziona scrittone giallo barra gialla e alert qui vediamo cosa c'è scritto avvertenza espressione disattivata errore alla riga 1 nella proprietà completamento transizione del livello 11 barra trump nella composizione grafico a barre non è possibile convertire i risultati in un valore numerico è chiaro molto probabilmente qui abbiamo inserito uno spazio bianco o comunque un valore che è un valore di stringa invece di un valore numerico se guardate bene noi come risultato non abbiamo inserito un numero ma effettivamente c'è una stringa che è questa percentuale che non può essere inserita qui perché questo è un valore che vuole solo un numero non vuole un valore distingo come la percentuale rimuovendo questa percentuale vedrete che tutto funziona ora ovviamente come si diceva prima bisogna sottrarre accento il valore del contatore e bisogna sottrarre accento il valore di trump ok vediamo cosa è successo qui c'è un altro errore cosa avremmo combinato ah si ok è un errore di sintassi probabilmente niente di grave abbiamo dimenticato una parentesi graffa no vediamo subito questo spazio non va bene ok non possiamo probabilmente ah ok giusto 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 abbiamo sbagliato non esiste alore bisogna inserire il nome corretto attenzione anche le maiuscole e le minuscole è una una V minuscola è diversa da una V maiuscola ok mando in play perfetto esattamente quello che volevo una piccola correzione quando abbiamo lavorato su Biden ovviamente se vogliamo essere precisi abbiamo incollato tutto ma questa sarà se vogliamo essere precisi in maniera tale che anche qualcun altro dovesse lavorare al nostro progetto capisci quello che stiamo facendo valore Trump no questo è il valore Biden ok state attenti poi a modificare tutte le variabili in maniera corretta altrimenti avrete un errore soltanto per una questione Biden ok solo per una questione di leggibilità del codice non ci sono diciamo conseguenze pratiche stessa cosa qui no qui è Trump ed è giusto copiamo questa espressione e facciamo la stessa cosa sulla barra di Biden quindi barra di Biden espressione invece di utilizzare l'espressione di prima incolliamo la nuova espressione se qualcuno se lo stesse chiedendo no purtroppo le variabili non comunicano tra un livello e l'altro ok quello si può fare quando facciamo gli script nelle espressioni quello che noi scriviamo qui vale solo all'interno della singola espressione possiamo andare a leggere il valore di altre espressioni di altri livelli ma non è questo il caso il valore Biden qui non è quello espresso in altri livelli ok solo per precisare la cosa oh vediamo se funziona non funziona non funziona perché non funziona ah eccolo eccolo qual è l'errore l'errore è qua e dobbiamo ricorreggere anche le cose prima ovviamente qui abbiamo il valore di Biden non di Trump salviamo e adesso funziona io stavo facendo una verifica su una variabile che non esisteva o comunque che era zero o comunque che non mi permetteva di rendere vero nessun valore e quindi chiaramente non si aggiornava nulla perfetto questa è l'animazione dei due grafici fatti sfruttando le espressioni ripeto occhio a essere ordinati non fate come ho fatto io quando copiate poi modificate i nomi perché altrimenti no sbagliate assicuratevi se le cose non funzionano ve lo dico perché può capitare di utilizzare di aprire e chiudere le parentesi una parentesi non chiusa correttamente manda in errore tutto quindi assicuratevi che le parentesi vengano chiuse assicuratevi di di avere i valori delle variabili scritti in maniera identica le maiuscole le minuscole contano assicuratevi anche di non utilizzare come avevo fatto prima io stringhe dove invece servono dei numeri ripeto qui serve un numero e se io qui adesso vado ad aggiungere una stringa ovvero un qualcosa scritto tra virgolette creo un errore ok e la funzione non funzionerà in questo caso si ma fidatemi vi troverete in difficoltà ok se avete difficoltà o dubbi sperimentate o commentate questi video e vediamo di capire insieme quale possa essere il vostro problema nel prossimo video ok vedremo come fare la stessa cosa ma con i grafici a torta ok in altre parole creeremo il grafico con la faccia di Trump e di Biden a torta che si completa a seconda della percentuale ma il principio è esattamente questo se io adesso andassi a modificare il valore mettessi Trump 90 e Biden 10 salvo ed ecco che subito il grafico si aggiorna ok nel prossimo tutorial concludiamo con l'ultima parte ovvero con i grafici a torta alla prossima